ciao a tutti ragazzi oggi siamo in un video molto scazzoso diciamo stato giusto giusto per passarci un pochino le ferie con voi qualcosa ogni tanto lo facciamo non abbiamo detto che non escono video però a parte se lui sempre qualcosina in più ogni tanto lo facciamo e niente abbiamo visto vari video che riguardavano questo gioco agar io e abbiamo pensato di fare un piccolo episodio anche noi se non te ne stai fermo con il mouse giuro che ti impicco il con lo scopo del gioco e vince vince chi ce l'ha più grosso penso che la sostanza sia abbastanza il mio nome perfetto possiamo iniziare va ti pareva mai mai porco schifo mangia 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 le palline questo si chiama grande non sei molto grande amico è questo d'oggi è quello più grande la madonna d'oggi è quello che questo qua è quello più grande non mangiarmi a che ti mangio te non mi voglio mangiare sto tizio cosa se si indoppia fa una brutta cosa caca per qualche mi ricordi un calciatore caca ma quello è il caca è un accento quindi cacca si deve che gli piace caccare mangiando si cresce dai si cacca anche fa un brodo senti ecco ti ha mangiato tu pensa mangiare dai che cresce te lo diciamo sempre mangia che cresce c'è la nasa non mi mangerai mai ora se mi chiamo nasa mi chiamo luna nasa alla luna vieni qua francia vieni qua vieni qua grazie che scorpacciata è buona perfetto vai credo no 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 non ci provare che culo madonna grande ti è andato particolarmente bene attento io mi nascondo qua non ti vieni qua non ti vede nessuno vieni 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 entra qui dentro e cosa succede se entra lì dentro scoppia perché c'è la cia c'è il portogallo no no via di qua subino mustro portogallo vieni qua ma perché lui scoppierebbe se tu vai lì dentro ma che ne so io ma così che succede è così che succede se tu sei già dentro lui entra scoppia se ci sono se ce n'è uno più grande di noi può mangiarsi tutti i nostri pallini no 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 non mi sta guardando particolarmente male sì oh mamma mia che pelo la bosnia ti sta prendendo scappa finché c'è in tempo c'è un giumbo 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 via dire che viene più ciò mandare per prendino a presidente canola ma no 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 il com' ok ma in mezzo frienze tutto donna oggi è una brutta situazione per tempo di quel pallino la luna non mi piace non mi piace a tu però quella penso che a lei piacevi molto ha sempre avuto insomma tento che vi parla di mangiare a questo questo quando mangiare no eravate grandi uguali tra stami sta minchia ma mangiare lui ecco fai un po un bel pasto qua giù che così diventi programmi e vabbè e vabbè quanta roba che c'è qua vai verso il basso che c'è da prendere la madonna vai vai quanta mangia il mio obiettivo arrivare decimo kk mi sa che dice qua c'è cacca è meglio che me ne vado a dio mangia mangia qua tutto un mangia mangia riunisci dai quanto mi riunisco porco schifo riunisciti a otti se la regina elisabetta mai a capire una regina elisabetta quanto è bello il paese dell'italia vai mangia di tutti e due no perché lì c'è cosa verde ma non mangio questo vieni qua vieni qua dai ha paura ha paura mangia tanti crostini così cresci ancora di più crostini che cazzo no c'è Bart lì c'è Bart vabbè Bart non ti può far niente sei più grande tutti levati ma anche no 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 vieni qua vieni qua vieni qua e poi vuole cagli eeeh c'è il caldo vieni vieni qua a portogal polska vacca ancora mi guarda male quando si riunisce dai riunisciti dai ci vedere fallo riunire dai ecco orca vai a sinistra vai a sinistra così non ti prendono vai che c'è più libertà esci ne vai a sinistra a sinistra no vado a destra che così ci impiega più tempo orca 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 qua è brutto qua è brutto no 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 scherzo la barra scherzo la barra scherzo la barra via sicurezza ok si però adesso ti riunirai se sei fortuna ti riunirai fa c***o c***o mangia lì mangia mangia che così cresce c***o va qua c'è l'oggi ah guarda chi si vede berta vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua che ti voglio mangiare tantana vieni qua vieni qua vieni qua oh mio dio qua c'è quello più grande vieni qua via da qui no vieni qua dai che tu fatti vieni qua berta vieni qua berta ecco vieni c***o tutti e due noi siamo patriotici poche parole tutti quanti ci staranno già dicendo spacchetti mandolino eh italiano spacchetti mandolino shrimp maledetti ecc ok ok c'è roba c***o tempo ed ecco tempo ma i wont in 5 ma la bella bla ah non allora cominciamo la nostra avventura già i patriot eles gli altri girano sicuramente spacchetti mantolini italiani io non so se scrivere italiano praticamente mi sono distrutto la vita cioè mi sono già rovinato la reputazione qua dentro questo gioco però sicuramente qualcuno che ce l'ha sulle palle qualcuno che ce l'ha con noi perché siamo italiani sicuramente c'è fatti questo qua hello sicuramente ce l'ha con l'italiano infatti la prossima volta non metto italiano metto Cina forse bestia ma che gli ho fatto io sto qua lasciami in pace oh mangio quello lì no cosa? di mangiare eh mangio mangio no non premere spazio no no molto vaci molto a coppia mangio mangio il l'esterito mangio la face pass quella che ha fatto Gary Small ma la mangio molto molto quello quello è il cipolletano ci sono è il mondo di giganti questo qua va a poco di gigante all'Algeria facciamo più piccolo all'Algeria cazzo ma la mangio quel calino basta ma non premelo tolgo l'Italia metto Cina e forse ecco forse magari abbiamo una reputazione migliore perlomeno ci lasciano un po' in pace ecco e chissà perché quando ti metti qualcosa che non è italiano ti lasciano stare non ci cagano proprio sai siamo mezzo mondo noi cinesi i cinesi Barbie dai che stiamo diventando grandi siamo grandi cinesi si manu le malin fa malin la NASA non voglio andare sulla luna adesso dai ma perché bastardi non ti danno il tempo di diventare grandi dai facciamo l'ultima faccio l'ultima tu hai già dato il meglio di te stesso io adesso vedo di far qualcosa ma non l'ha fatto lui si Russia si niente dai direi che ci possiamo fermare qua noi abbiamo provato a giocare a questo gioco molto divertente Aaron è diventato anche bello grande come palla solo che purtroppo ho trovato qualche palla più dolce di lui che la la ecco il primo è buco paura paura niente gentaglia noi vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao